Con noi l'onorevole Marco Di Lello, capo gruppo PSI alla Camera dei Deputati a Casoria per un incontro con uno dei socialisti, volevo raccogliere da lei una battuta innanzitutto su questo governo delle larghe intese, come sta andando? Questo è un governo di responsabilità perché non si poteva tenere il Paese senza un governo, sarebbe stato da irresponsabile tornare alle urne con la stessa legge elettorale che probabilmente ci avrebbe dato lo stesso risultato e dunque noi abbiamo dato la nostra fiducia al governo Letta, adesso bisogna dare delle risposte e cominciano ad arrivare alcune, ma occorre fare chiarezza all'interno di questa coalizione, non è possibile tenere sotto tensione il governo tutti i giorni, nel centro-destra si facciano un esame di coscienza e facciano sapere se vogliono o meno sostenere questo governo, io penso che la chiarezza serve a loro, serve al Parlamento e soprattutto serve al Paese, dunque è un aspicio a fare chiarezza nei rapporti tra Alfano e Berlusconi per togliere quel vero di ambilità. Tra l'altro stamattina sembra che Alfano abbia fatto tipo un passo indietro, lei cosa ne pensa sulle dichiarazioni di stamattina di Alfano? Che non aiuta a fare chiarezza e questa non è una cosa positiva per me. E secondo lei è meglio arrivare ad elezioni presto o insomma, lo scrive ancora questo governo di larga intesa? Ripeto, specialmente finché non si cambia la legge elettorale andare alle elezioni lo considero sbagliato, ma non si può neanche tenere il governo sotto ricatto, se questo governo non è in condizione di governare e allora ce ne faccio una ragione, poi vedremo se in Parlamento ci sono maggioranze diverse. Non si può stare tutti i giorni sotto i diktat di Berlusconi che lega i propri destini personali, quelli del governo e dunque Alfano e i moderati, le cosiddette colombe, o si assumono la loro responsabilità di rompere e sostenere questo governo nell'interesse del Paese, oppure lo si dica con chiarezza e poi sarà il Parlamento a verificare se ci sono altre maggioranze. Grazie. Grazie. Noi abbiamo la necessità di cambiare e abbiamo la necessità di cambiare anche le istituzioni, e quindi spero che non affeglie nessuno, ma insomma io spesso definisco, poi i miei colleghi che faccio con il gusto della provocazione, i parlamentari italiani sono quasi robotomizzati, passare lì il loro giornale interno a premere col colpito indice e pulsate per il voto, 70, 80, 90, 100, 120 votazioni al giorno, a breve dei pulsanti, passare il giorno a breve dei pulsanti, con due camere che hanno esattamente le stesse funzioni, quindi tutto un lavoro che si fa alla Camera, poi magari viene manificato perché il senale deve dire la propria e poi ritornano a fronte alla Camera e dunque diciamo con una scarsa produttività su questo terreno, un po' che capi di un po' che decimano, spesso sovrapposizioni legislative tra le competenze... Venire qui a Casoria a parlare di socialismo sarebbe come per un giovane comunista andare alle frattocchie e volere insegnare qualcosa, qui insomma è la patria per meno per quello che riguarda questa regione dal punto di vista quantitativo sicuramente, forse dal punto di vista qualitativo negli ultimi anni non abbiamo dato il meglio di noi stessi, questo dobbiamo dirlo, e il fatto di essere un socialista senza tessera, semplicemente perché non l'ho ancora ricevuto, io sono da nove mesi, ho aderito al gruppo del socialista che c'è alla regione Campania che si chiama appunto l'ideale dei socialisti europei, mi permette di essere libero di poter continuare a provare ad essere come era il mio bisnodio, cioè un grande uomo socialista, che lui lo faceva prima e dopo la grande guerra, che forse era paradossalmente più facile, perché c'erano tante conquiste che andavano in qualche maniera scante, adesso forse è un po' più complicato, ve lo dico perché prima di venire qua io naturalmente mia figlia che ha 16 anni mi ha detto papà dove vai? Gli ho detto a Casoria, dice sì ma che cosa vai a fare a Casoria? Insomma non è stato tanto facile per me spiegare che cosa andavo a fare con Gianni Bianco questa sera qui, non perché non avessi capito di che si trattava, perché c'è una distanza tra i miei 30 anni di militanza politica e la sua idea della politica, da poco è passata attraverso le elezioni studentesche e hanno avuto il suo gruppo e un altro gruppo con cui andava in competizione 40 voti ciascuno e devono fare il ballottaggio, gli ha detto sai non ci hanno dato l'assemblea, la sala dell'assemblea per fare il ballottaggio, dobbiamo aspettare una settimana, gli ho detto è importante che sei arrivato prima, ha preso un buon risultato, vuol dire che potrai farti valere e lei mi ha risposto ma sei matto, io devo cambiare la scuola, non posso aspettare una settimana, ci sono tante cose da fare e allora ho pensato semplicemente dentro di me che qualche buona semita probabilmente era stata fatta almeno nell'ambito familiare e se la buona semita la fai in ambito familiare è utile che puoi fare qualcosa di buono anche all'esterno, questo penso sia l'imperativo morale a cui debba uniformarsi chi vuole fare politica prima di mostrare di saper fare qualcosa, di andare in un'assemblea e incontrare persone che si ricordano che hai fatto un'avvertenza del lavoro, per esempio i compagni del sindacato che ricordavamo prima, appunto dell'avvertenza della Fiat, di incontrare persone con cui hai fatto battaglie territoriali e poi avere il piacere di venire in un teatro, è molto meglio venire in un teatro piuttosto di trovare in un sottoscala di un grande agglomerato dormitorio, come appunto in questa parte qui della circondazione esterna, uguale a tante altre realtà che sono qui intorno, insomma se non ci fosse stato un teatro qui nella peggiore delle cose si avremmo trovato una sala gioco, avremmo trovato alcuni degli 840.000 cittadini italiani e che soffrono di non dovali